Oggi vi presento il libro illustrato Animali Comio di Pino Pace e Davide Panizza, edito da Edizioni Gruppo Avele. Che ci fa un cormorano in tangenziale? E una pantera tra i sassi di matera? E un cavalluccio marino a portofino? Una compagine esilarante di animali da ogni ambiente naturale di tutte le dimensioni, protagonisti delle 46 filastroche pirotecniche che state per leggere. Provate a mettere insieme fantasia, animali e giochi di parole. Il risultato è divertentissimo e il tutto scritto in Easy Reading Font, carattere ad alta leggibilità e maiuscolo, così adatto anche alle prime armi con la lettura. Leggiamo qualcosa. Un gatto con la tosse, come se niente fosse, andò a passeggiare sulla riva del mare. Un cane gli abbaiò, lui si spaventò e la tosse gli passò. Un grasso merlo di saluzzo si mise a dieta, diventò un merluzzo. Un altro grasso merlo di pecetto si mise a dieta, diventò un merletto. Un altro merlo ancora, stavolta di Torino, si mise a dieta, diventò un merlino. Il mago con quel nome lo seppe s'arrabbiò e in un grasso merlo lo trasformò. A forza di ragliare, all'asino cascò la coda, poi le orecchie, poi il naso, i denti, le guance. Allora s'arrabbiò e ancora più forte, ragliò. Mandetto di un cavalluccio marino, che passava le ferie a Portofino. Ma con i prezzi che correvano quell'anno, a Portofino fece solo il capodanno. Arriva la puzzola, inciampa, ruzzola, sghignazza, la gazza, il corvo l'ammazza. L'orso andò al mare e al lunedì mangiò l'orata, al martedì una triglia stufata, mercoledì trota e limone, giovedì palombo in carpione, al venerdì filetti d'acciuga e poi al sabato l'insalata di mare. E la domenica andò a pescare quell'orso al mare. Queste e tante altre filastroche in Animali Comio di Pino Pace e Davide Panizza. Edizioni Gruppo Abele